sei davvero bellissima bruno ti prego adesso no ascoltami ok nessuno dei domestici ha ritrovato l'orecchino hai parlato con loro si sono state in cucina poco fa beh allora dimmi è stata denisa no no nemmeno lei le ho appena parlato e me l'ha confermato va bene non preoccuparti lo scopriremo ok fammi almeno un sorriso smettila